La seguente testimonianza è davvero incredibile, davvero miracolosa. Fu rilasciata ad Alessandro e Franco Nori. L'intervista è facilmente riparibile su internet, per questo nella descrizione del video troverete il link che vi porterà in un'altra pagina YouTube nella quale sarà possibile visionare l'intervista originale. Ma veniamo alla testimonianza. Per primo è Franco Nori, il padre di Alessandro, a prendere la parola e a parlare e dice «Premetto che prima di questo evento accaduto a mio figlio non ero assolutamente credente. Dopo un terribile incidente stradale mio figlio ha subito ingenti danni, tra cui un'emorragia cerebrale. Per questo è andato in coma ed è stato operato all'ospedale San Camillo di Roma. Dopo l'operazione il neurochirurgo mi disse immediatamente che le possibilità di salvezza di mio figlio erano quasi nulle e che qualora per miracolo fosse sopravvissuto avrebbe dovuto convivere per sempre con danni irreparabili al cervello e concluse dicendo «Io stesso non saprei consigliarle di pregare che viva o che muoia». Pur non essendo credente, da quel momento ho iniziato a invocare la Madonna e mentre invocavo la Madonna, senza sapere perché o come, ho avuto un richiamo così forte verso Padre Pio che non conoscevo, non avevo mai sentito parlare di lui. Nemmeno mio figlio lo conosceva, questo è importante, quindi lo sottolineo. Quella notte stessa partì per San Giovanni Rotondo. Non conoscendo Padre Pio ho dovuto contattare determinate persone per farmi accompagnare fino al convento. La cosa straordinaria è che appena ho messo piede nella chiesa, tutta l'ansia ed il terrore che provavo sono svaniti. Stavo benissimo, ero molto tranquillo e ho detto «Ecco dove dovevo venire». Mentre mi incamminavo giù verso la tomba di Padre Pio ho sentito un bellissimo profumo di rose e di viole. Ero sicurissimo che ci fossero dei fiori, ma in realtà non c'era assolutamente nulla. In quel medesimo istante mio figlio Alessandro era in coma profondo, la cartella clinica dell'ospedale San Camillo lo conferma. In quel momento, esattamente in quel momento, il neurochirurgo aveva detto «E' finita, avvisate i genitori». Ma in quell'istante accadde qualcosa di straordinario. Alessandro, che ripeto non conosceva Padre Pio, si sveglia e in quel momento dell'intervista è lo stesso Alessandro a prendere il microfono e quindi a prendere la parola e a dire quel che accadde, dicendo «Quando mi sono risvegliato ho iniziato subito a gridare «E' stato Padre Pio, mi ha salvato Padre Pio». Vorrei dire che quando una persona in coma non sente nessun tipo di sensazione, non è come dormire, non si sente davvero nulla, nessuna sensazione, né caldo né freddo, niente. Da questo nulla è apparsa una luce fortissima e abballeante, dalla quale sono apparsi mio nonno, che era venuto a mancare un paio d'anni prima che io facessi l'incidente, ed insieme a lui c'era un frate, che avvicinandosi verso di me mi ha detto «Sono Padre Pio e sono venuto a salvarti. Respira piano, ci vorrà del tempo, ma tornerai quello che eri prima». Da lì mi sono svegliato ed ho iniziato a gridare «Mi ha salvato Padre Pio, è stato Padre Pio». Da quel momento sono anche diventato devoto, perché io ammetto che prima non credevo assolutamente a niente, ero ateo in tutti i sensi». Padre Pio lo ha salvato non solo fisicamente, ma anche spiritualmente. Grazie per aver ascoltato questo video, molto interessante e alla prossima!